C'è una canzone triste nel mio cuore Buongiorno amici dello zocco le duro Buongiorno, buongiorno, buongiorno Direttamente dal tribunale Dove stanno cercando gli interisti Perché hanno debiti da tutte le parti Interista, ti cercano i creditori E' da ieri che gli ero sgrindato Tipo le che incontro Ti guardano così Che dice? Chi è? Chi è che parla? Vabbè, ci facciamo due risate In questi giorni tristi, tristi, tristi Allora ragazzi Facciamo un attimo il punto della situazione per l'anno prossimo Perché il problema vero Che se avessimo Ma non un presidente che vuole spendere E' uno normale, normale Che comunque ha un minimo di interesse sportivo Cioè noi avremmo la possibilità di fare proprio un filotto Di fare proprio un predominio Perché guardiamo la situazione attuale ragazzi Allora, quelli là A parte oggi la gazzetta meravigliosa Libri in tribunale 800 milioni di ferite a bilancio 400 milioni di debiti del presidente Perde l'Inter La prendono questi qua Che adesso dovranno fare tutta un'opera di risanamento Cosa scrive la gazzetta? Inter a stelle e strisce Un trionfo in pratica Un trionfo Cioè stanno fallendo Non falleranno Ma sono lì Sull'oro del fallimento E la gazzetta scrive come se fosse un trionfo Capisci? Che quando hai un management che lavora Non solo nel calcio Ma che ha creato tutto questo sistema Della marotta lì Capisci che poi Tutto funziona meglio Non è importante il giocatore che prendi I debiti Quello, quell'altro Tanto poi Alla fine sistemano tutto come al solito Comunque ci sono quelli là Che dovrebbero incominciare Un'opera di risanamento Della società Perché comunque ci sono 800 milioni di perdita Chiunque arriverà O li mette E li regala E oggi Babbo Natale Non ne vedo in giro Magari Oltre un po' Scusi Hai visto Babbo Natale? No Al momento non è arrivato Anche perché siamo Siamo a maggio Quindi è difficile trovare Babbo Natale a maggio Ma a parte A parte questo Dovrà fare un'opera di risanamento Progressiva Graduale Per carità di Dio Ma sono sempre tanti 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 soldi Da recuperare a bilancio Di conseguenza Vediamo Cosa combineranno quelle là E quelle 1 La Juventus È un'altra squadra Che congiuntoli Stanno anche loro risanando Perché giustamente Dopo aver messo 800 milioni Perché Gli hanno messo 800 milioni Di rifinanziamento In due trash Dopo aver messo 800 milioni Giustamente la proprietà ha detto Oh Qua i rubinetti sono chiusi Noi non mettiamo più niente Quindi o tornate attivi da soli O sennò Varanges E quindi anche loro Devono fare stop Per il risanamento Si parla di vendere Bremer Si parla comunque di Di fare Delle cose Hanno preso un allenatore Comunque Che ha fatto bene Quest'anno Per me è un po' Sai Per grazia divina Però Vediamo L'anno prossimo Cosa farà la Juventus E come andrà Se la giocano Ma non è che sono Poi c'è Giocano la Champions Quello lì è un allenatore Che non ha mai fatto Doppia competizione Sarà praticamente Un campionato Dove giochi sempre Ogni tre giorni Quindi Anche il calcio di morte È dispendioso Quindi Vediamo Il Napoli Il Napoli Se prende Conte Ed è fuori dalle coppe Per me È il favorito al campionato Il favorito Per vincere il campionato Io fossi Dell'Aurentis Ma non ci penserei Un secondo A prendere Conte Prendo Conte Vendo Simena 120 Quelli che ti danno Io non lo venderei Però lui lo vende Con quei soldi Gli fai la squadra a Conte Fai scegliere a lui Fai il budget L'anno prossimo Vinci il campionato A mani basse Senza le coppe Il Napoli Vince il campionato A mani basse Con Conte Senza le coppe Se lo prendono Se lo prendono In ogni caso Primi tre posti Garantiti Garantiti E quello sarà L'avversario più duro Dovessimo Ma Non succederà La Roma Con De Rossi A me sembra Tutta un'altra Roma Si gioca sicuramente I primi quattro posti L'anno prossimo Sicuramente I primi quattro posti L'anno prossimo L'Atalante È in continua crescita Si gioca sicuramente I primi quattro posti L'anno prossimo E farà secondo me Una bella stagione Anche l'anno prossimo Avendo anche Il bilancio positivo E poi ci siamo noi E poi ci siamo noi Cosa vogliamo fare Perché Qualcosa faranno Ragazzi Perché come siamo oggi Se veramente Prendi Fonseca E non credo Cioè Me lo auguro Quasi Perché almeno così Facciamo un anno Di protesta Invece della Mediocrità Ma non credo Prendano Fonseca Cioè Veramente Sarebbe una follia Non arrivi neanche Nei primi quattro Se prendi Fonseca Non arrivi Nei primi quattro Ragazzi Vendi Fonseca Vendi Teo Perché vogliono vendere Teo L'ultimo che devi vendere è Teo Che sa fare più ruoli L'ultimo che devi vendere è Teo Se vendono Teo E prendono Fonseca Ragazzi Se voglia comprare Il Z Non arrivi Nei primi quattro Ma basterebbe Veramente poco Per Per fare il salto No? La curva continua Lo sciopero del tipo Invece di fare qualche Cosa di più importante Secondo me E questa è la situazione Ragazzi La Lazio Sinceramente Non l'ho nominata Ma la Lazio Nello prossimo Per me Gioca Per il sesto Settimo posto Non vedo Non vedo come la Lazio Possa far bene Questi anni Che aveva Milinkovic Aveva Immobile Aveva Luiz Alberto Ha fatto comunque A poco A poco Perché l'ultimo Prende tutti a poco Ha fatto comunque La differenza E adesso Prendere Oggi Prendere i giocatori A poco È come comprare Le macchine Non è più come prima Cioè prima Tu a poco Riuscivi a prendere Sai anche il giocatore Buono Oggi non è più così Oggi costano tutti Tanto Anche le macchine Nel cavolo 30.000 Non è più come prima Quindi oggi Fare quel lavoro Che faceva il Sassuolo Non è difficile Infatti Anche il Sassuolo È retrocesso Perché oggi Tutti i giovani Appena uno Lo vedono Che sa un po' Stoppare il pallone Boom Prezzo sale E anche i giovani Ti costano Le grandi squadre Fanno l'Under 23 Vanno subito A prendere Giocatori Che valgono qualcosa E non lasciano più niente Non lasciano spazio A nessuno Di conseguenza Oggi Stare nella mediocrità Diventa difficile Diventa molto difficile Quindi oggi O sei top O sei flop E nella mediocrità Fai fatica a stare Perché costa tutto tanto Di conseguenza Basterebbe Un minimo Uno capace Per fare il salto Perché poi abbiamo Il bilancio sano Abbiamo tutte Tutte le basi perfette Ci manca la competenza E ad oggi Ancora Non si parla Di un direttore sportivo Siamo al 20 maggio Non abbiamo un allenatore Non abbiamo un direttore sportivo E la curva è in silenzio Questa è la situazione attuale Fatemi sapere cosa ne pensate Iscrivetevi al canale Mettete un like Ci sentiamo il pomeriggio Vediamo Ciao